Ipaticamente noi una guerra con l'Europa non abbiamo possibilità di vincerla? Non è detto Non è detto Guarda che combattere in Africa è un cancro, eh In attacco Ho messo male, cioè io dovevo fare prima qua in Corea Sì, sì, sì Ci saremo noi a difendere qua Finché si può, difendiamo Quando non si può più Di certo non Cioè questi qua Han violato Ma stanno ancora mettendo gli aerei lì Ma che ci sono le truppe americane in Corea? Terrestri? Cioè, allora Vedi che ritrattano ancora quello che hanno detto In sede ONU l'altra volta Nel senso Cioè, ma di che stiamo a parlare? Allora a questo punto Chiediamo l'uscitamento dell'ONU a questo punto Ma non chiedo più niente Tanto se la credibilità è quella Nel senso L'ho ritirato dal fronte comunque perché stiamo parlando Stiamo discutendo ancora Ci sono quelle inglese lì al sud Ma sti cazzi Là non tanto non ci sono neanche attaccato Servono fucili ragazzi? Sì A me ne servono 10.009 Io ne sto producendo Io ne ho 3.004 adesso Poi ve li mando Fateli crescere L'Uzbekistan ha gioinato l'entante Boh Cioè, quello attacca cani e porci Non gli dice niente a nessuno E Tu invadi in Marocco Devi chiedere permesso all'ONU Vabbè Ma io sto facendo guerra E non dobbiamo Beh no, ma io l'ho fatto No, vabbè Ma c'è il rapporto di Ford La Germania ha gioinato l'Africa l'entante Vabbè L'Europa non serve a niente Ma nel mentre La lista Quella delle robe Eh, te l'ho scritto in privato Frania Da dove? Dissordi Sto scopriando la guerra mondiale Sto scopriando Se la Germania perde Bisogna punire sempre la Germania È sempre colpa della Germania No, lasciali perdere Lascia che intanto la Germania Sprechi un po' di risorse In Africa Se le mananda Se le mananda Se le mananda Che poi dopo se ne piglia meno lui A me che cazzo me ne frega Sto arrivato All'Europa tipo Un 500 giorni Mi mancherà No, erano molto di meno Adesso saranno almeno 220 No, se lo dico subito Sono a 108 giorni Cazzo Oh Loris St'arrivato? Sì 108 giorni E quelli non stanno facendo niente Incredibile No, ma stanno farmando Anche in Africa Non è che non spingono Che vogliono farmare il più possibile No, no Dico Ti dico la verità In Africa non stanno farmando Non ci sono truppe inglesi Americane al confine C'è al fronte Beh, in Sud Africa Ci sono le truppe inglesi Sì, ma ti dico Ci sono le truppe al confine Nella zona di guerra Non ci sono truppe Al momento nella frontiera Ah, raga Scusate Vi aggiorno solo una cosa Se avete notato Una dichiarazione di guerra strana È che è stato un misclick Dove? Cioè, io sono un giornalista indipendente Anche se sono dentro l'Iran E non posso vedere un cacspio La Russia ha misclickato Sì, la Russia ha misclickato Ma è tutto quello che mi ha mandato? Quindi solo Egitto e Siria? Se si vogliono unire gli altri che hanno perso Sì, aspetta che ti mando l'Iran No, no, ti prego Bruca Evita Se ti serve qualcosa poi te la do io No, io non sto giocando l'Iran È Tannato che volevo Ah, sì, mancano 30 giorni Sì, ma hai già messo tutto Tanto, guarda che se quella roba lì Ce la fanno Allora La Siria che l'ha data L'Egitto L'Iran Devi contare anche tipo Mille carri iracheni E X fucili Non so, quanti ne hai persi Metti un numero N di fucili Erano 10.000 Me l'ha detto prima Ma no, sono 10.000 Eh, però Considera Fai ne anche 7.000 6.500 Perché li posso dare io Chi ha motorizzate? Motorizzate? Quante? Quante? 2.000 Sì, ce l'ho io Posso dare 500 Tra le do io Io ho 14.000 Ma non ve le posso mandare Questo toglie Vabbè Ho capito Ho capito Dov'è, dov'è, dov'è Il canale è qua Ah, ho il nazionalismo A 10 Aspetta un attimo Te ho mandato De 1.500 Provate Provate a mandare La richiesta Per entrare all'India Ok Ho inviato io la richiesta Fatto Vabbè, te l'ho inviato io La richiesta Perfetto Rieccomi Rieccati Oh, bene Il Brasile L'ho invitato Non posso Eh, fa salire il nazionalismo Adesso Eh, c'è una buona Mi sa che divento Prima social democratico Eh, infatti Perché io non riesco a portare Io la flotta non ce l'ho Da mandare fino in Peru Cioè, quindi resteremo così Per un po' Ah, io non ne ho Social democratico Ah, social democratico È al 36% Fine in Peru Da dove parti? Infatti, quindi Infatti, quindi Non posso praticamente farlo Praticamente no Ma praticamente Cioè, in realtà Sai qual è la cosa? Potrei partire Dal punto più vicino Che abbiamo In qual tipo Se abbiamo qualche isoletta Qui vicino No No Il Pacifico No, il più vicino è Taiwan Adesso che prende il Marocco Magari ti puoi mettere Nel Marocco Però devi sempre Girare tutto intorno al Peru Al Sud America Già Forse ci passi da Panama Non lo so Come, ragazzi Come faccio Una volta che ho preso Il Marocco A dare La provincia Allo Shawari Nel trattato di pace Clicchi sulla bandierina Dello Shawari E gliela dai a lui Sì Ok Oh Meno 5 Buono Invest in public service Già Ah niente La guerra di Corea qua È un incubo Non si riesce a fare nulla Beh Anche la resistenza All'occupazione dell'Iran È un incubo Che non so perché Non ha mai dovuto occupatterla L'ho vista crescere Pian piano Ah io ho la mia occupazione A proposito Devo Io avevo messo Stai scendendo Sta scendendo La Martial Law Mi conviene toglierla adesso La legge Martiale Certo Metti Secret Policy Sì Sì La resistenza in Iran Dei popoli occupati Verrà sottomessa Col sangue Mi distrago Anch'io Io no Non mi frego Io no L'Iran non ha occupato Nessuno È il momento di alzare Le tasse al popolo Pagate No raga In questa mod Le mod Sì In questa mod Le mod In questa mod Le atomiche È un po' diverso Sono molto di vano Io ve lo dico Io Ho in cantiere La costruzione Dei reattori nucleari Solo che sono Molto indietro Nel costruirli ancora La Cerno Billingiana Io ti dico Sono ancora fine Di costruire Delle civili E no Altre con Ricostruzioni Di civili Altri civili Ma siete una fracca Ancora civili Voi Ecco Io ne sto usando Soltanto 37 Perché c'è un Consumer Goods Che è pari a E devi provare Ad abbassarlo La Millennium Down Ma sai che La Come si chiama La Modern Day L'abbiamo provata L'altra L'altra sera Oddio Tra di noi Che eravamo in live E devo dire Che è stabile Sai La Millennium Down Non la Modern Day Ah beh sì Quello è sempre quello Sì Sì Ah Jack Hai spostato Anche tu Cosa Le truppe Sì sì Mi stavamo provando A sbarcarmi Davvero Che idioti Ah In guerra In guerra In guerra Sì la vedo Sto comprando Con due fabbriche Da te Io Ma sai perché Sono così Alto Perché io Sto passando Le tasse A darvi subito Tra virgolette Quello che hanno A disposizione Che più o meno Ha detto che sono Mille carri Per quello che hanno Adesso a disposizione Sono quelli Mille carri Light mechanized Tutte Infantry equipment Tutte Quindi 5.000 Più 1.000 Dell'iracheno E artiglierie Tutte E E E E E Nel ruolo Penso Tutti E io dovrei Inveciare A cosa Quindi dovrei Inunciare Anch'io A delle Territorie Izmir Perché Cosa Izmir No Tu devi Istanbul Lasciamo Istanbul Edirne Tekirdag E Kezan Ma quelle sono Della Turchiate Che In Europa Mica sono in Europa Quelle Eh Sono Sì Ma Cioè Mica sono Nostri Mica sono Nostri Sono già Turchia Quella Infatti Sì Voglio Solo Istanbul Voglio L'assicurazione Eh Assicurazione Quando vedo In mezzo Io rinuncio A tanto Io rinuncio A Sono Sei civili Tre militari Un impianto A parte che Le posso buttare giù Eh Vai Giù Non le puoi trasferire Scusa Ma firma l'accordo Prima di buttarle giù Sennò ti fai un danno da solo No Sì ma non le butto giù Adesso Puoi buttare giù E poi Le butti giù E non le rimetti In riparazione Se faccio Remove Building Poi dopo Mi va in riparazione Non lo so No Non credo Non lo so Non l'ho mai fatta Io sta cosa Allora Gli dici A L'Italia Che noi tra Sette giorni Entremo in guerra Voglio Land lease Il primo giorno di guerra Con tutti i mezzi Che Che abbiamo richiesto No Aspetta 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 Perché guarda Che C'è Il problema Che prima Dobbiamo Prenderci L'altra parte Di Turchia Perché io Non do niente Finché Quell'altra parte Della Turchia Non è sotto Il nostro dominio E adesso Non abbiamo Il political power Per giustificare Vabbè Averti Basta Dichiarare Guerra La Palestina No Han tolto Garantì Non altro Che c'è Ce l'ha ancora Sì Non mi sembra Sì Sulla Palestina Ce l'ha ancora La zona di Bursa Ve la lasciano Sto mediando io Apposta Loris E mi ridai tu Tutto quello Mi ridai tu Mi ridanno le fabbriche Me le ridai tu Le fabbriche che ci sono lì Me le costruisci te Te le do io Te le do io Passo dieci Di fabbriche civili Perfetto E tre militari Te le passo San civilian factory Dieci Te le costruisci Mi trago quelle dieci Allora Aspetta Jackie Ce l'hai la policy Per andare in guerra La policy Il war cry decree Sì sì Perfetto Abbiamo raggiunto L'accordo Tre giorni Sì 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 ma io Quando scoppia la guerra Voglio l'endlease Sennò non gli Diamo un cazzo Sì Vado E non è che Cioè quello che avanza Lo voglio dopo Non è che finisce qui Eh Iran Sì Ve lo danno Ve lo danno L'Iran è in guerra Ancora oppure no Eh a voglia Ok Quindi Non c'è proprio nessuno Che mi possa aiutare In Sudafrica Avete Allora Jackie Mi serve che tu Accetti la chiamata Devi fare Chiamami per entrare in guerra Cioè Join alla mia guerra Sì sì Fai ask to join Cavolo Sono rimasto un quarto d'ora a parlare Per Hanno minacciato di intervenire Nella guerra in Yemen Ok Ma la tua guerra in Yemen è già finita Eh lo so No perché c'è ancora il Peru Però Ce l'ho fatta a convincere A non entrare Ok Vi chiaro guerra eh Marocco C'è tanto lì È la parte del Tone dell'ONU Quindi Eh sì Si combattendo Contro le bandiere rosse bianche e nere Almeno gli alleati non si confondono Libia Cambiala sta bandiera Manchi solo tu Eh ma adesso la cambio La cambio Ah il nostro è tornato il leoncino Ma il leoncino Che piccolo Oh So cute Poi su Whatsapp ti ho messo Jack Tutto quello che Abbiamo richiesto Eh la lista Lì ce l'abbiamo ben scritta Comoda Quindi il Marocco Join the Somali Union Ok Quindi è con Peru E Yemen Sì Stati Canaglia Sì sono riuscito a sfondare Contro il Sudafrica Tanato è meglio se ti svegli Comunque c'è una richiesta di entrate in guerra C'è un calto arms Sì ma è della È della Libia Contro il Marocco Sì Ma Tanato Chi è che mi ha rifiutato la guerra Di Satana Non so dove sia Quindi chi era Che dove Alla Siria Devo dare gli aiuti Vero Cos'è che c'è ancora La Turchia Nulla Iran No Iran Siria Cosa ti devo inviare Che non mi ricordo Le Light Mechianites Ah cazzo Aspetta Cioè che siamo in guerra Apro il canale di Land Lace Con tutti Ah sono tutti Ah sì Ah sì Mille Va bene Ci sono dei sottomarini Che mi stanno affondando I convoi Te l'ho mandato Mille Una sola partita Aprite un canale Aprite un canale Con Dove Dove scambiamo L'1% di fuel Tra di noi Dovrebbe starvi arrivando Tutto E io tra poco Vado a minare L'americano Se non lo smette Con i volontari Vi l'ho detto Fragna apri un canale Con me di Land Lace Lo sto facendo con tutti Ok Io l'ho aperto con tutti Tranne con l'India Perché non me lo fa fare Ecco Se è finita la guerra Non mi arriva il Land Lace Vabbè io comunque L'ho inviato in tempo La Sierra Land Lace Sì sì Ho visto Forza Land Lace Ale Oh Tocca Loris Allora Prenditi la Palestina Jackie Eh non posso Fai pass Ce l'hai tu eh Sì Fatto Guerra è finita Andate in pace Prendiamo Grazie L'Etiopia Che accetta L'aiuto cinese In vita L'Eritrea Quanto è ingrandita Allora Ragazzi 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 Ascoltate un attimo Ragazzi Dobbiamo calcolare Mi devi dare la data Dell'Unione Europea Jackie Metà aprile Circa Di che anno 2005 2005 Iniziamo Chi ha le giustificazioni brevi Sì Su chi Sulla Giordania volevi Giusto Sulla Giordania Allora io giustifico Sulla Giordania Tu giustifica sul Libano L'Italia mi sta mandando Il Land Leeds L'accetto? Sì Sì certo Controllate anche che tipo di Equipo vi sta mandando Mica che vi mandano Quello Stravecchio Generazione 2 No no è Generazione 2 The Mechanized Generazione 2 Ma la Giordania Ne stai dichiarando te Loris Sì Tu devi dichiarare Il Libano Ti ho detto Il Libano Ok perfetto Gli stanno mandando Gli stanno mandando tutto Ovviamente adesso Loro vogliono Mantenate l'accordo Certo C'è un problema però Quale? I coreani stanno Non prendono un cazzo Gli ho detto Gli ho detto di togliere gli aerei E ora li tolgo No no I coreani sono coreani Ormai hanno conclusato la nord No La capitale non è caduta Quindi no C'è ancora una città Che resisterebbe sempre all'invasore Il problema Come faccio? Io a dargli A dare Dico un secondo Parlo L'Unione Sovietica Mi ha fatto una richiesta Di Pormi Per via Che tra poco Avremo un confine Molto vicino E lui Di pormi Come mediatore Per una richiesta Di parlamentare Nudo ha scritto in chat Chiedi di portarmi in stanza Quegli arabi per favore Portatelo qua Io devo andare da Matt C'è Fragna qua? No Ciao Ricky Ciao Galt e Red Grazie Grazie anche a Raffa e il von Braun Scusate ragazzi Se non ho ringraziato subito Gli abbonati Ma non mi arrivava Non mi arrivava la Come si chiama? La notifica La notifica audio Non sento Comunque Fragna Buonasera Buonasera Ciao Buonasera E la Russia Buonasera Sera Allora Batanato Cosa dici? Mi dispiace Non essere potuto Essere presente Quando c'è stata La dichiarazione All'ONU Perché ero Impedito E malato Adesso Ripreso in mano Tra l'altro C'è stato anche Un colpo di Stato Nel nostro paese E quindi Siamo stati Fortemente impegnati A Debellare L'ultime resistenze Putiniane C'era Putin stesso Debellare il capitalismo Invece? Mi sta bene a sentire Presidente Mi fai un favore Prima? Sì Togli i volontari Dalla sicurea Dell'Ucraina Mi ascoltino Io Voglio essere chiaro E sincero Indipendentemente Da ogni considerazione Di natura ideologica Qui c'è un problema Di fondo Il problema di fondo È che L'Unione Sovietica È stata di fatto Isolata Fini dall'inizio Lei si è isolato Lei se no Mi ascolti lei adesso Io ho detto una parola Io ho detto una parola Viene Viene a casa mia Chiede udienza Non so Parla D'isolazione Una cosa ho detto Mi sento Assolutamente Perché Fintanto che L'Europa Guardava in Cagnesco Ad est C'era chi faceva affari Chi si spartiva territori Successivamente Appena l'Europa Ha cominciato a guardare Con meno ostilità D'Oriente L'Europa È diventato il nemico Da debellare Va bene Da noi non è mai Venuto nessuno Noi siamo venuti Non è vero Non è vero Non è vero E no 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 Avevamo Io qua Io qua La contraddico subito Perché sulla Turchia Lei è stato Interpellato Lei ha anche Dato voto a favore E poi dopo Avete votato In due Per la risoluzione Della Turchia Che peraltro Non è passata Quindi Non mi venga A dire che lei È stato isolato Che non è stato Voi in cambio Che cosa Se lo ricorda L'accordo Se lo ricorda Io me lo ricordo L'accordo Io me lo ricordo L'accordo Ma mi ricordo anche Che il nostro Alleato storico La Cina È entrato a far parte Della vostra coalizione Sì Prima Della votazione Ma noi non abbiamo Noi non abbiamo La nostra parte E se lei mi dice Che tutti I paesi Confinanti Con me Sono O sono Si accordano Si alleano E noi rimaniamo fuori Da ogni accordo Se questo non è un atto Di oscilità Io non saprei Cosa dire Non è un atto Allora Se lei lo vuole La prima spia Che le ha fatto Me l'ha messa in Russia Si e però Come d'accordi Io la spia L'avevo tolta Certo L'avevamo sgamata Io ho Il servizio di intelligence Senti Usi il suo servizio di intelligence Se vuole venire qui Per puntare i piedi Ha sbagliato buco No Io non voglio E allora La smetta Allora la smetta Di girare in tondo Faccia una proposta E la valutiamo Perché già mi hanno fatto perdere Abbastanza tempo Con una votazione Che peraltro Non è nemmeno passata All'ONU E quindi Non lo so Io di tempo Da perdere Non ne ho Ho una nazione Da ricostruire Allora Noi Credo che questa cosa S'è andata un po' oltre Lei mi aveva assicurato I passaggi D'Ardanelli E il passaggio D'Ardanelli È bloccato Non è assolutamente bloccato Ma che cosa stai dicendo Ma non è bloccato Ma ci puoi passare Non è assolutamente bloccato Ma che cosa stai dicendo Qualcuno di noi due S'è impazzito Eh sì Mi sa tu Navis can pass no Navis can pass no Subring can pass no Non ho nessun tipo di passaggio Presidente Piracheno Poi Pidalei Avete fatto l'accordo Del docking La Russia non mi ha proposto Nessun tipo di accordo Del docking Fagli l'accordo Col docking Così può passare Ma non serve l'accordo Sì serve Faglielo Guarda che qua No Non serve Glielo Bosforo Straits Se non mi fai l'accordo Da qui non passi Ma questa è una mancanza sua Della sua diplomazia Non della mia Lei non è mai venuto A chiedermi nessun tipo di accesso Vabbè È ovvio che adesso Noi siamo dal lato del torto Ma su questo Non c'è poco da dire Vabbè Allora Vogliamo abbassare Un po' i toni Della discussione Io che sono rimasto L'unico A parlare di pace E di collaborazione No C'è anche la Gina E anche la stampa internazionale No La stampa internazionale Guardi che qua Noi abbiamo fatto Noi abbiamo fatto Un'alleanza Per mantenere la pace Nei nostri territori E non abbiamo Come Ho già detto Intenzione Di attaccare a nord Perché le ricordo Perfettamente Ciò che Lei da tempo Dice Che vuole riformare I confini Dell'Unione Sovietica Io Per me La partita Può anche finire Con la conquista Dei paesi baltici Non ho altre velletà E allora Se la tua partita Finisce lì Devi venire a minare La mia Senato Scendi giù Io non sto Minando la sua No Non so Perché guardi Che io Guardi che io Non mi dimentico Le vostre votazioni All'ONU Neanche io Se per questa Neanche io Se per questa Non sono qui Per ricriminare Il passato Io sono qui Per cercare Di rimediare A questa situazione Allora Faccia una proposta Per rimediare Noi mi metto Una posizione Molto difficile Se l'ha cercata lei È lei che ha chiesto Di parlamentare qui Io l'ho accolta Viene qua Parla Io ero venuto qui In buona fede Io sono sempre rimasto In buona fede Io Io non ho Io ricordo Che non ho violato Nessun tipo di accordo Mi ascolti Mi ascolti Mi ascolti anche lei Perché viene qua Parla Io sono venuto in buona fede Come per dire Che so io In cattiva fede Quello che ha ritrattato Gli accordi Minando la propria Credibilità internazionale Non sono stato io Assolutamente Però voglio dirle Una cosa Molto Molto Esplicita Indipendentemente Dalle parole E dalle considerazioni Di Massima Sono i fatti Quelli che contano Allora noi siamo venuti lì Abbiamo fatto una proposta Con l'ONU La proposta è stata Rifiutata Noi non abbiamo fatto Nulla Abbiamo accettato Avete manifestato Avete manifestato Ed era una mossa Strategica Per far uscire fuori La vostra alleanza Ed è anche funzionata Per come la vedo io Ora se lei prende Diciamo L'occasione Per fare tutto quello Che le pare Fra cui anche occupare Quello che restava Della Turchia libera In sfregio Come la nostra richiesta Questo è un atto Di grande ossidità Nel nostro confronto Non è assolutamente vero Le ricordo Le ricordo Le ricordo Che questo È parte di un accordo Quindi non venga a dire Cose che probabilmente A Mosca La sua Il suo servizio Di intelligence Non sa O lei fa finta Di non sapere No 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 Il mio servizio Di intelligenza Funziona piuttosto bene E allora E allora Sta venendo qua Cercando di millantare cose Puoi scendere giù Franni in consolato Grazie Più che altro Non voglio millantare cose Io sono tordi Per abbassare i toni Della discussione No no Noi non vogliamo Abbassare i toni Di nessuna discussione Noi non siamo Intorto Noi non siamo Quelli che hanno Violato alcun tipo Di accordo Ma più che altro Voi superpotenze La finite di entrare Qui dentro E di dettare Le vostre leggi Cioè non avete Problemi più grandi Perché tu Russia Non stai rompendo Le palle all'Unione Europea Ma vieni da Quattro arabi sfigati Cioè qual è Il vostro problema Perché questi Quattro arabi sfigati Cosa ti stanno facendo In che l'Europa Andava bene Ai loro interessi L'Europa era bella Sai cosa deve fare L'Europa sembra Che sia andato Il diavolo all'improvviso Loris Lo faccia Cosa c'è E così Ci state provocando Non so come si fa Porca loca E lo sto chiedendo Da un quarto d'ora Poi dopo Quello mi arriva Non lo so Non l'ho mai usato Lo state transfer tool Dio santo Ogni cavolo di volta Entra qualcuno qui dentro E si vuole imporre Ma non lo so io Ma pensa te Ma porca loca Vengono a fare Le superpotenze qua Vengono a fare Le superpotenze Ma che giochino A fare le superpotenze Con i loro Con i loro pari livello Va Abbiamo fatto Tre puntate Ma che cosa hai fatto Ma cos'è che hai fatto Ma cos'è che hai fatto Hai ritirato Ma che cosa stai dicendo Che tu hai anche appoggiato L'invasione dei Baltici Ma che cosa stai dicendo Stai dicendo per favore Ma su via Facile Ma su via Ma su via Vabbè Credo che Io ci ho provato Vabbè Bene 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 Ci hai provato Sei venuto qua Non ha fatto una richiesta Ha parlato per un quarto d'ora Senza fare Una proposta concreta L'ho detto subito Ma no Vediamo poi Quando arriva l'Unione Europea Vi mangia tutti quanti Voi grandi superpotenze Signori Il problema Ma non siamo noi Sono loro Che tra un po' diventano imbattibili Io voglio solo Vorrei Diciamo una manifestazione Di buona volontà Che mi faccia tornare Dagli europei E dalla Nato Cioè non tocca a noi Mannaggia la miseria Cioè lei deve andare Dagli europei Lei deve rendere conto Al mondo democratico Degli europei E della Nato Ma indipendentemente Dalle ideologie Signor Presidente Questi stanno Stanno Alle mie porte Assolutamente Adesso stanno Alle sue porte Fino a 5 minuti fa Però Vallava le loro richieste E viene qua da noi A dirci Che noi abbiamo isolato La Russia Assolutamente Sì Questo è un dato Di fatto Perché da noi Non è mai venuto Nessuno Con proposte concrete Mi spiace Mi spiace Mi spiace Ma vatti a rivedere Le live scorse Scusa ma Poi vediamo Chi non è mai andato A parlare Non voglio intrametti Voglio soltanto dire Loris Per il transfer tool Sì Devi cliccare State transfer tool In alto In modo tale Che spunta la cosa verde Ok Poi vai sul Tile di Istanbul Sì Mark state Sì Poi devi fare altri tile No Solo quello Solo Istanbul Perfetto Clicchi sulla Russia E c'è proprio scritto Transfer state Clicchi su un tile russo A caso Così Io devo schiacciare Qualcos'altro Non doveva Darla all'Italia All'Italia No All'Italia All'Italia Alla Russia L'Italia Ok Allora devi andare De cliccare su un tile Qualsiasi italiano E fare transfer Che è questo qua Ok Fatto Ora riclicca Su state transfer tool In modo tale Che torna la X rossa Perfetto È chiuso Non si ho Ti aspetto giù Vabbè Ok Io la saluto La rinnovo comunque La nostra volontà Di non aggressione Anche perché Ci siamo mossi Diplomaticamente Non abbiamo fatto Assolutamente Nulla di Guardi Guardi Il patto Di non aggressione Visto che lei dice Che noi vi abbiamo isolato Non vi abbiamo Gliel'ho proposto io Ed è ancora in vigore Quindi Non sta Perché è stato Rolto all'Ucraina Io non ho Tolto nulla All'Ucraina Ragazzi Mi viene detto Che se si tolgono i cosi E mi viene detto Di queste Quelle Nel senso Del passaggio E quelle Quell'altro Adesso Gli stretti Sono contesi Quindi potete Passare tranquillamente Va bene Io questo lo prendo Come un atto Di buona volontà Perfetto E si ricordi Che seppur pochi L'Egitto Ha finanziato Mandando fucili E artiglierie L'ultima campagna Della Russia Adesso Riaverete tutto Noi non vogliamo Insomma Non vogliamo Elemosine Noi avremmo voluto Un'alleanza Di lungo termine Che non c'è mai Stata proposta Scusi Scusi un attimo Scusi un attimo Scusi un attimo Ma è lei È lei È lei La superpotenza Lei non ha proposto Nessun tipo di alleanza A noi Cioè noi Che siamo stati Un'alleanza Che è partita Con boh 15 fabbriche In 4 nazioni Noi non abbiamo ricevuto Alcun tipo di Alleanza Di offerta Di alleanza Noi abbiamo Lavorato diplomaticamente Per garantire La stabilità Nell'emisfero Sud Del globo E con intenti Non belligeranti Perché noi abbiamo Sancito Non belligeranti Sono ancora validi In che senso Nei nostri confronti Nei nostri confronti Non ci sono mai stati Intenti belligeranti Come Russia Perché noi non siamo Quelli che votano contro Ma la diplomazia È un'arma È un'arma Quello che conta Sono reali Quindi lei mi sta dicendo Quindi lei mi sta dicendo Che la vostra Diplomazia È stata utilizzata Però è successo Quello Qui quelli che sono stati Come dire Provocati Siamo stati noi Non certo voi Io Gli intenti Di non belligeranza Sono disposti Siamo a casa vostra E io Mi Sto zitto Che lei dice Che io vengo a provocare Ma su questo Non sono Non sono affatto D'accordo Vabbè Comunque Sono punti di vista Quello che contano È che le armi Non Taccano Senta una cosa Senta una cosa Vogliamo fare un patto Di non aggressione Vogliamo sancire Un patto di non aggressione Ufficialmente Del Di che natura Ma facciamolo Facciamolo concreto Rinnoviamo Vediamo quanto vale La parola Di tutti Visto che lei Si sta espandendo Sul caucaso In maniera molto Prorompente Per noi questo È Molto pericoloso Che ne dice Se sul piatto Ci lascia l'Armenia Cosa mi scusi Che ne dice Se L'Armenia Si No L'Armenia Fa parte Della Repubblica Socialista Sovietica Questo No glielo posso Concedere Questo lo vedremo Vabbè Sono andato qua Per fare pace Per fare pace In realtà Noi non siamo in guerra Ma questo Lo sa bene Che sarebbe De fatto Una dichiarazione Di guerra Guardi Per quanto mi riguarda L'Unione Sovietica Dovrebbe arrivare Anche in Polonia Dovrebbe arrivare Fino a Berlino No Quello è il patto Di Varsavia È un'altra cosa Noi stiamo ricostruendo L'Unione Sovietica No il patto Di Varsavia Stiamo ricostruendo L'Unione Sovietica Dialogando con l'Occidente Ok Ogni mezzo è buono Per evitare Che milioni di justi Vadano a combattere Guerre di altri Perfetto Perfetto Quindi se non ci sono Se non ci sono altre Se non ci sono proposte Di mutuo beneficio Non vedo di che altro Dobbiamo parlare Ma lei mi sta chiedendo Come mutuo beneficio La cessione Di una repubblica Che consideriamo Socialista Sovietica Io le sto chiedendo Le sto chiedendo In atto di buona fede Una provincia Non le sto chiedendo Baku Le sto chiedendo L'Armenia Le sto chiedendo L'Armenia Che è Io al massimo Posso concedere Nakhchivan Che era una provincia Che avevo promesso All'Iran Alla Persia Quindi Quella l'ha già promessa Quindi è fuori Dalle trattative Ma è una provincia Quindi Ma non lo stato Dell'Armenia L'Armenia È sovietica Vabbè E prendiamo atto Prendiamo atto Delle vostre Dichiarazioni Vabbè Le auguro Buona giornata Buona giornata anche a lei Buona volta Salam alaikum Buona giornata